ciao a tutti e per voi oggi mi piacerebbe aggiungere un bonus qualcosa in più proprio per allenarsi a disegnare parti del mandala o del mandala in questo caso un mandala un po più geometrico solo che come vedete questo per esempio un proprio un esempio di quello che faremo comunque prediligo disegnare parti del mio mandala a mano libera senza utilizzare sempre compassi e stecca per il motivo che così riesco ad entrare più profondamente dentro di me e dentro il rilassamento del disegno perché se ogni volta devo prendere proprio il mio compasso fare sempre i cerchi fare e iniziare a contare misurare pensare sempre le dimensioni e alla perfezione questo si farà ovviamente sì che il mio mandala alla fine sarà un po più perfetto al livello estetico però non mi permetterà di rilassarmi dentro quindi di godermi il viaggio del disegno del mio mandala quindi per esempio questo si vede chiaramente che ci sono parti più grandi più piccole che non sono per niente uguali però quando io inizio a disegnare proprio a mano libera proprio mi rilassa così tanto che non importa se il risultato finale non è perfetto prima di questo per esempio però possiamo anche divertirci a esplorare proprio dettagli del mandala che possono essere proprio i petali detto così non anche se non sono petali però proprio delle parti appunto che saranno le parti esterne anche del nostro mandala quindi dei cerchi e immaginiamo di fare per esempio una linea solo forme e andiamo a indagare tutte le forme che ci vengono in mente che possiamo disegnare dopo al livello proprio generativo attorno al cerchio quindi per esempio ho preparato ho preparato come a scuola una una carta in cui ci sono già magari delle paralleli fatti proprio a matite e prendendo proprio un penarello andrò a disegnare le forme che mi vengono in mente per esempio questo ho fatto questa forma quindi adesso posso prendere spunto dell'idea di questa forma e andare a disegnare tutto attorno il mio mandala e diventa proprio una forma generativa posso pensare a un'altra forma per esempio questa è una forma che faccio tantissimo e anche stavolta questa è una forma che per esempio andrò a disegnare in modo generativa e repetitiva tutto attorno il cerchio del mio mandala ok per esempio un trucco che possiamo utilizzare per avere proprio un equilibrio tra il numero anche di disegni generativi che vado a fare attorno proprio al cerchio del mandala e quello di iniziare da un lato poi fare la stessa cosa nel suo posto poi nei quattro angoli quello ovviamente se vogliamo un numero pari di disegni qua uno ok giro perché mi è più facile disegnare abbiamo visto che un po' l'intercalare diventa omogeneo poi se vogliamo aggiungere appunto un disegno tra di loro lo facciamo e diventa veramente molto equilibrato ok senza lasciare troppi spazi o essere troppo ravvicinati quindi andiamo avanti così immaginando tutte le forme che possono avere questi elementi generativi e repetitivi del nostro mandala poi nel workbook avete questo esempio quindi prendete anche spunto quando avete finito tutte le forme che vi vengono in mente si può passare anche a tutto quello che sono dettagli interiori quindi della nostra forma quindi si prende una forma sola in questo caso visto che mi piace tanto io posso fare questo si prende sempre la stessa forma però si cambia l'interno e si inizia a pensare come io posso completare questa forma la faccio diventare una foglia e può essere davvero un esercizio divertente anche per aiutare la creatività e proprio scoprire in che modo possiamo creare mandala diversi quindi questo per esempio è un esercizio che tra l'altro potete mettere da parte, riprendere in un secondo tempo, fare insieme ai figli o ai compagni quindi è un esercizio anche divertente che non è impegnativo ma che dà veramente tante soddisfazioni per quanto riguarda la ricerca proprio di elementi del mandala e poi ovviamente le potete dopodichè come abbiamo visto prima provare su un foglio come questi e pensare appunto mi piace molto questo ok allora faccio una prova visto che mi piace molto poi ovviamente dopo potete colorarlo ecco questo è l'esercizio in più che potete provare potete fare anche lì diverse prove rispetto a prendere un foglio fate diversi cerchi e inserite diversi elementi del mandala così proprio da divertirvi e iniziare proprio una ricerca anche tecnica del lavoro sui mandala geometrici grazie a tutti e ci vediamo subito adesso per il mandala del secondo chakra il mandala del movimento a dopo